ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale oggi è martedì quindi come ogni martedì esce un nuovo video delle makeups angels quindi un video che riguarda a me fabiana elisabetta per questa settimana abbiamo deciso di parlarvi di revolution o makeup revolution come lo volete chiamare ci sono le varie tipologie io ho messo tutto in questo cestello proprio per far vedere alcuni prodotti che proprio utilizzo tantissimo e altri che è niente la prima cosa che vi faccio vedere proprio il prodotto che ancora non ho utilizzato infatti è sigillato ed è una cipria traslucente quindi in polvere libera e ancora non ho utilizzato quindi inutile diciamo parlarvi di questa cipria perché non l'ho ancora utilizzata la cosa che mi è piaciuta tanto della revolution sono queste maschere questa è una maschera in gel ed è idratante ha una profumazione pazzesca ed è ottima specialmente per pelle disidratate come la mia altri prodotti che adoro tantissimo di revolution sono i sieri io ne ho provati alcuni questi sono tre ma se non mi sbaglio anche un altro questo già l'ho provato due o tre volte comunque mi piacciono tantissimo se volete sapere a che cosa serve sia questo che è super fruit questo che è il 10 per cento multi peptidi andate nelle schede vi lascio il video acquisti che lo acquistate da pink panda e sotto vi ho messo anche la scheda che cosa servono e diciamo i loro principi attivi che hanno quindi vi lascio tutto prima che rompo tutto vi lascio tutto nelle schede oppure giù nell'info box un altro primer o siero come lo volete chiamare che già utilizzato è questo qui ed è un primer idratante ovviamente io vi parlo di primer idratante perché una pelle abbastanza secca e anche perché io ho una pelle matura quindi automaticamente sono dei prodotti adatti alla mia tipologia io mi sono trovata bene con questo primer l'ho utilizzato anche con fondotinta un po più densi perché avendo come vi ho già detto 40 anni devo utilizzare dei fondotinta molto più liquidi avendo anche una pelle secca e automaticamente questo fondotinta non lo stavo utilizzando proprio per la densità che aveva invece con l'aiuto del primer sinceramente l'ho utilizzato e mi sono trovata bene non vi spoilerò niente perché sono dei video che sto preparando e che piano piano dovranno uscire quindi non ve lo posso dire altri prodotti che vi faccio vedere sono sempre per quanto riguarda il viso vi faccio vedere i correttori io sinceramente mi sono trovata bene sia con questo qui che è revolution concealer e define che nella colorazione c6 c6 c5 c6 mi sono trovata bene sinceramente io ho i miei correttori di fiducia quelli che utilizzo sempre però quando voglio variare perché ovviamente devi anche sperimentare altri prodotti per diciamo variare la tua tipologia di makeup ho utilizzato questo qui perché mi sono trovata bene è un colore abbastanza chiaro non è un colore scuro ed è adatto a diciamo alla alle mie occhiaie perché non ho delle occhiaie abbastanza definite ho leggermente proprio una leggera parte scura ma che io utilizzo questo e poi utilizzo ovviamente un un correttore più chiaro per illuminare la la parte invece questo qui che è un concealer e corrector nella colorazione white questo l'ho utilizzato una volta soltanto sincera sono sincera l'ho utilizzato una volta soltanto proprio per evidenziare di più i colori che gli mettevo al di sopra devo dargli un'altra possibilità sinceramente perché non mi ricordo proprio bene bene come si è comportato quindi vi farò sapere questo è un nì perché come il correttore ad esempio è molto più denso molto più coprente invece questo qui white è un pochettino trasparente quindi gli ho fatto se non mi sbaglio due passate infatti come vedete adesso non è proprio un bianco abbastanza coprente ma è un bianco con un diciamo con una trasparenza diciamo così quindi questo è un nì poi sempre per quanto riguarda revolution le le cose preferite che ho utilizzato tantissimo sono gli illuminante l'illuminante 1 l'illuminante 2 e questo vabbè è un'edizione limitata ve la faccio vedere perché è stupendo ed è un'edizione limitata riesco ad aprirlo si aspettate ecco ed è un'edizione limitata pazzesca perché a forma di teschio cioè è bellissimo è stupendo veramente stupendo ed è un illuminante che veramente vi illumina tutto il viso la stessa identica cosa infatti ho preso le due colorazioni io a prima avevo questa qui peach infatti si vede che c'è il solco e poi ovviamente ho preso anche la sorellina più giallina questa è la peach questa invece è la golden sono ottime sono ottime se volete un illuminante un illuminante con diciamo a basso prezzo perché il prezzo è bassissimo prendete queste qui di revolution perché sono fantastici veramente fantastici io mi sono trovata benissimo infatti si vede proprio il solco non si vede quasi più il disegno veramente sono ottimi ve li consiglio infatti uno di questi se non mi sbaglio l'ho anche regalato a mia sorella perché veramente mi sono trovata benissimo un'altra cosa che vi parlo che è ottimo devo dire ottimo io ve ne faccio vedere una ma come simbolo di tutte le altre sorelline vi sto parlando della palettina di revolution perché stiamo parlando di revolution per quanto riguarda i glitter vi ho preso questa ma ovviamente sono tutte una più bella dell'altro sono delle tipologie di glitter che dovete mettere una base e poi applicarli di sopra sono dei glitter pazzeschi veramente pazzeschi di una scrivenza pazzesca ciao come sta tutto a posto cioè guardate ovviamente dovete mettere una base appiccicosa sotto poi in caso vi farò anche un video perché ovviamente così me li trovo sulle mani più che sul sulle dita scusate che più sulla mano ma sono ottime ma veramente ottime cioè li avete di tutti i colori di tutte ehm le illuminazioni possibili immaginabili tipo duochrome come questo che lo vedete marroncino poi è verde poi è rosa cioè è una cosa pazzesca e devo dire che questi glitter mi sono piaciuti tantissimo l'ho utilizzato un paio di volte e mi dispiace tantissimo perché tutte le volte che li utilizzo metto piano il cellulare tutte le volte che li utilizzo ecco li utilizzo non ho fatto un video per quanto riguarda quindi un pochettino mi dispiace un'altra cosa sempre per quanto riguarda gli occhi che mi piace tantissimo questo è proprio make up revolution sinceramente ed è questo ombretto in crema io l'ho utilizzato tantissimo si vede ed è un magnificence copper ed è un ombretto stupendo ora con le unghie sarà una cavolata prenderlo però è un rose gold pazzesco io l'ho utilizzato un sacco di volte di norma ha tipo quelle goccine che si mettono ma sinceramente io lo metto anche senza ed è questo questo colore qua io di solito metto una sfumatura con un marroncino o un malva e poi metto questo su tutto l'occhio a me piace tantissimo ed è un ombretto che ho sfruttato tanto infatti si vede la cialda che è molto molto scavata sempre per quanto riguarda aspettate mi pulisco le mani perchè sennò qua in sozzo tutto sempre per quanto riguarda gli occhi non posso non parlarvi di Revolution Carmi la palettina di Carmi è stupenda io l'ho acquistata tramite Sabrina Bambi perchè ne ha parlato benissimo l'ho presa l'ho presa perchè non si poteva non prenderla è stupenda bellissima e mi strapiace un casino l'ho utilizzata tantissimo l'ho messa anche nei preferiti l'ho messa dappertutto perchè è una palettina sfruttabile a 360 gradi ha degli ombretti stupendi nella parte di sopra i matti sono sfumabilissimi il colore si nota anche alla prima applicazione si nota anche se fa un leggero fallout non mi interessa niente perchè io la utilizzo tranquillamente ha dei colori dove potete spaziare veramente la vostra fantasia e questi sono uno più bello dell'altro uno più bello dell'altro cioè già solo questo equivale tutto il video vi dico solo questo è pazzesco poi un'altra cosa che ho utilizzato e che mi piace e che non credevo sinceramente è il rossetto di sempre di Revolution stiamo parlando di Revolution il rossetto io ho preso nella colorazione stripped e... oddio mi si è staccato allora c'è caldo ovviamente mettete anche questo la colorazione che non vuole uscire è questo nude che dà sul malva ve lo faccio vedere così ed è stupendo perchè oltre al colore che a me piace questo però è un tono più che ha un pochettino più rosa più che malva mi piace perchè dà quella morbidezza alle labbra che sinceramente è una cosa al bacio gradevolissima specialmente chi ha le labbra secche come le mie ed è ottimo io ho preso questa tipologia di rossetto perchè se non mi sbaglio l'avevo consigliata Giulia Cova e mi sono trovata benissimo con questo e con quella a forma di teschio che adesso vi prendo perchè ce l'ho qui se non mi sbaglio ce l'ho qui ho qui allora ed è questo qui sempre in edizione limitata come quel diciamo l'illuminante a forma di teschio io ho preso questo ed è un bellissimo colore questo proprio io lo adoro questo è il malva che io utilizzo di più in assoluto vedete è un color malva ed è in edizione limitata ed era questa qui con il teschio e questa è anche stata sponsorizzata cioè io l'ho vista nel video di Giulia Cova e quindi l'ho voluto prendere e questo è pure un ottimo rossetto la texture mi piace tantissimo sulle labbra perchè non me li secca e quindi posso andare tranquilla un altro prodotto che vi faccio vedere è il penultimo perchè l'ultimo è quello che io adoro oltre la palettina adoro l'ultimo prodotto che adesso vi faccio vedere allora questo è di i love revolution quindi credo che sia sempre la stessa marca ed è un fix spray di questo ne ho altri però sempre di revolution però non l'ho mai utilizzato quindi non l'ho presi allora mi piace tantissimo sia la profumazione di cocco che è spettacolare che si sente nei primi secondi ovviamente che l'ho spruzzato dopodichè vaporizza e non si sente più niente mi piace tantissimo perchè ha un diciamo uno come si dice uno spray bello bello diciamo non è quei quegli spray abbastanza non so come dirlo tipo quell'erogazione che ti spruzza e ti bagna tutto il viso no qui ti lancia proprio quello quelle gocce lieve 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 che poi con questo caldo si asciuga si asciuga in pochissimi secondi e mi piace mi piace perchè non è quello lo spray troppo forte che tipo oddio sto annegando ma è uno spray leggero tenue sulla pelle proprio che ti arriva e si asciuga in pochissimi secondi quindi mi piace tantissimo l'ultimo prodotto che vi faccio vedere che è il mio amore in assoluto sinceramente l'avevo acquistato perchè carmi mula ne aveva parlato ma l'avevo acquistato e ho detto vabbè ne ho tantissime ne prendo uno in più che vuoi che sia invece devo dire che mi sono trovata benissimo e devo dire anche che è uno dei pennelli per quanto riguarda il fondotinta che mi piace di più in assoluto ho quello di di Real Techniques che mi piace tanto quello di Nabla che mi piace tanto ma devo dire che questo pennello mi ha lasciato veramente sconvolta mi piace tantissimo questo pennello è della Revolution Pro ed è il Pro 230 è adattissimo per tutti i tipi di fondotinta io ho utilizzato anche quelli un po' più cremosi che dovevo diciamo pucciare dentro il pennello e la stesura del fondotinta era perfetta perfetta questo è uno dei pennelli di fondotinta per quanto riguarda il fondotinta che utilizzo di più in assoluto tra il Real Techniques quello di Nabla eccetera questo è uno dei miei preferiti quindi ve lo consiglio proprio di più in assoluto per quanto riguarda i pennelli è costato pochissimo e devo dire che è un ottimo ottimo acquisto volevo provare anche gli altri però diciamo degli altri io sono fissata di più per quanto riguarda i correttori fondotinta per quanto riguarda cipri e altre polveri ho i miei proprio personali che utilizzo sempre perché avendo tanti pennelli quale utilizzi sempre i soliti sempre 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 questo è eccezionale provatelo una volta soltanto e siete sicuri che quando dovete applicare il fondotinta utilizzerete sempre ed esclusivamente questo pennello non dimenticate il 230 per quanto riguarda questo video io ho finito mi vado subito a togliere tutto questo pastrocchio per quanto riguarda la mia mano che dirvi io ovviamente vi ho diciamo nominato le cose che di più ho utilizzato di questa marca ditemi giù nei commenti se vi piace questa marca cosa avete utilizzato cosa mi diciamo mi consigliate per quanto riguarda la revolution provo questo prodotto prova quest'altro che io lo farò volentieri per quanto riguarda questo video è tutto vi raccomando appena finita di vedere il mio video andate subito a vedere il video delle altre due angels quindi per quanto riguarda Fabiana e Elisabetta sono molto curiosa molto molto curiosa di sapere cosa vi hanno proposto loro due io per quanto riguarda questo video è tutto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video sfolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao